Il terremoto è annunciato per il 15 ottobre, quando la seconda sezione del Tarpuglia esaminerà i sette ricorsi presentati dai candidati esclusi alle ultime regionali. Nel mirino la legge elettorale farlocca che ha alterato la divisione dei seggi tra le province. Il rischio è di stravolgere gli assetti del nuovo parlamentino a destra come a sinistra. In Forza Italia Francesca Ferri, prima dei non eletti a Bari, contesta l'elezione di Nino Marmo, collega di partito nella BAT. Nel PD Anita Mauro di Noia reclama uno dei seggi finiti ai compagni Amati, Mazzarano e Mennea. Dermi interno pure tra Borracino e Lonigro in Noia Sinistra, divisi da un'incollatura di voti. Nel ricorso Borracino sostiene errori di conteggi nei verbali. Un posto al sole lo chiede ai giudici Ciro Argese, il più suffragato della lista Schittuglia Brindisi. In lista d'attesa pure Antonio Scalera dei popolari, già capogruppo Udc, che nonostante i suoi 5.500 voti è stato escluso su Taranto. L'ultimo ricorso spetta ad un grillino, Antonio Trevisi, che su Lecce pretende l'assegnazione del nono seggio al Movimento 5 Stelle. Maurizio Friolo invece vuole indietro la poltrona che gli ha scippato un altro grillino, Gianluca Bozzetti, l'ultimo proclamato della Corte d'Appello che, sostiene Friolo, ha sbagliato la ripartizione.